Grazie a tutti Oggi voglio fare uno street fishing un po' particolare, lo street aging e lo voglio fare qui a Venezia. Ci sono dei canali fantastici ricchi di pesce, in particolare di seppie e oggi a quelle mi voglio dedicare. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Street aging a Venezia è una cosa fantastica, favolosa da rifare sempre.